È un importante convegno qui in Ancona, raccoglie professionisti di tre regioni, dell'Umbria, dell'Emilia-Romagna e della nostra regione per un confronto che poi nelle giorni successive diventerà nazionale. È estremamente importante come settore sul quale abbiamo avuto in questi anni una grande crescita in termini di tecnologie e anche investimenti molto significativi. La parte preponderante ci ha permesso di cambiare quelle che erano vecchie macchine con nuove tecnologie, che dialogano fra loro, sono in rete, o alimentano in maniera automatica il fiscicolo elettronico, permettono di qualificare fortemente le attività dei nostri centri, di tutti quanti in generale, in particolare per quanto riguarda l'ospedale riunito di Torrette, diventando un'eccellenza assoluta per le tecnologie di cui è a disposizione, che in questo caso servono per l'assistenza ma anche per la ricerca. Quindi, grazie alle grandi tecnologie, è possibile non solo avere risultati diagnostici importanti, ma è dimostrato anche che alla fine si spende meno, perché la maggior rapidità dell'esame, la maggior qualità dell'esame evita inutili repliche del stesso e lo fa con tempi molto più rapidi, con una produzione molto più alta. Per la nostra regione è un motivo per essere orgogliosi, ospitare qui questo lavoro, permetterà ai professionisti di scambiarsi le pratiche migliori e offrire sempre migliore assistenza alle nostre comunità.